Ciao, sono Alessandro Monego, amministratore di Mokka Studios SRL, una software house di Milano che sviluppa soluzioni informatiche innovative. Oggi siamo in Abruzzo con iFounders che ha organizzato iNetwork, iNetwork Abruzzo, di cui Mokka Studios è sponsor, perché condividiamo con iNetwork un ideale comune, ovvero il sostegno per le start-up, il sostegno per le imprese giovanili e innovative, che saranno il futuro di questa nazione, il futuro di questo paese, dell'Europa e se vogliamo anche del mondo. Crediamo molto in ciò che i giovani possono realizzare, tant'è che appunto Mokka Studios nasce con questo sogno, con questo ideale, cioè l'idea di dare la possibilità a neolaureati di poter realizzare progettualità creative, innovative ed essere all'apice di una piramide di sviluppo che solitamente invece è invertita. Noi diamo la possibilità di dare appunto a questi ragazzi la gestione totale di progettualità e di gestire quindi professionisti che hanno esperienza decennale nell'ambito informatico, generando quindi uno scambio virtuoso di conoscenze e competenze.